Bene, sono le 9.35, io direi che possiamo iniziare. Buongiorno a tutti da parte del Digital Innovation Hub di Vicenza che ospita questo incontro e da Pallades, ovvero dal progetto voluto dal comune di Bassano e da un'altra aggregazione di circa 15 comuni, che si è impegnato appunto in un palinsesto, in una programmazione di attività formative anche rivolte alle scuole. Oggi faremo con voi un laboratorio didattico incentrato sulla emergente tecnologia della blockchain, in cui illustreremo alcune delle sue principali applicazioni. In particolare tratteremo il tema dello smart contract. Cercheremo di svolgere questa lezione in maniera interattiva grazie ai nostri docenti, Christopher Spennato e Sara Tizianel, ricercatori del Digital Innovation Hub di Confartigianato Vicenza. Do alcune indicazioni prima di iniziare su come gestiremo questo incontro. È molto importante che ci facciate delle domande se qualcosa non è chiaro. Se volete che torniamo su alcuni punti che illustreremo, chiedo a tutti di utilizzare la funzione di chat. Sarà mia premura, diciamo, raccogliere le domande e porle ai nostri relatori. Passo quindi la parola a Christopher Spennato per iniziare questa lezione. Grazie a tutti e buon lavoro. Ciao a tutti. Come mi ha presentato Pocanzi Matteo Pisano, sono Christopher Spennato. Lavoro come ricercatore all'interno del Digital Innovation Hub di Confartigianato Vicenza e attualmente mi occupo di blockchain e smart contract. La giornata di oggi sarà organizzata in questa maniera. Vi illustrerò cosa sono, dal punto di vista teorico, le blockchain e gli smart contract, la matematica che c'è dietro. E dopo di che ci sarà un quiz su quello che ho spiegato per voi. Dopodiché passerò la palla alla mia collega, a Sara Tizianel, che vi illustrerà invece come programmare uno smart contract. Prenderai il suo computer e farà un po' di programmazione. Dopo ci sarà un altro quiz per voi sulla parte pratica e infine vi potrete sporcare le mani con un laboratorio. Vi assegneremo degli esercizi, saranno facili, saranno difficili, dipende. Questo lo tareremo strada facendo, ne abbiamo programmati un po' di più, preparati un po' di tutti i tipi programmatici, penserete voi. Cominciamo con la matematica che c'è all'interno della blockchain. L'hash function. Cos'è un hash function? Innanzitutto è una funzione. Allora, torno un attimo indietro, cos'è una funzione? Non so se voi a scuola avete studiato seno, coseno, logaritmo, esponenziale, quelle sono funzioni. Si fa lo studio di funzioni in quinta, l'esame di maturità scientifica. Ma un'altra funzione banalmente è il doppio di un numero. La funzione che prende in input 2 e restituisce 4, prende in input 3 e restituisce 6, prende in input 7,5 e restituisce 15, prende in input 0 e restituisce 0 è una funzione, doppia di un numero. L'hash function è una funzione. Prende in input una stringa, può essere corta, può essere lunga, può essere come vi pare. Però l'output sarà sempre lungo uguale. Infatti, guardate, abbiamo fatto iniziare l'output allineato e termine allineato. L'output avrà lo stesso numero di caratteri, che poi dipenderà dalla funzione hash usata. E notate che da 1,2,3 stelle a 1,2,3 stai là, la variazione è minima. Ma la variazione dell'hash function è bella lunga. Cioè, scusate, la variazione dell'hash function è grande. Quindi anche una minima variazione nell'input causa una grande variazione nell'output. poi, quindi, cosa notiamo? Che per quanto cambi l'input, la lunghezza dell'output è la stessa. Per quanto poco cambi l'input, invece, la variazione dell'output è grande, anche se l'output resta lungo uguale. Quindi, proprietà, la lunghezza è sempre la stessa, ve l'ho detto. è molto difficile da invertire. Quindi, se io vedo 8,7,9, bla, 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 4a, 6c, non riesco a risalire a 1,2,3 stella. Questo è molto difficile, perché appunto l'hash function è difficile da invertire. Mentre è facile da calcolare. Questo non significa che se io ti dico calcoli l'output di 1,2,3 stella, tu in 5 minuti con carta e penna me lo dici. Ma significa che un computer normalissimo, che ha dentro le istruzioni per calcolare l'hash function, la calcola in un attimo con pochissime risorse. È deterministica. Ti chiedo qual è l'output di A? C, a, bla, 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 b, b. Qual è l'output di A? C, a, bla, 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 b, b. Qual è l'output di A? C, a, bla, 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 b, b. Ti chiedo mille volte qual è l'output di A? Mille volte mi rispondi C, a, bla, 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 b, b. E l'input sempre stesso output. È resistente alle collisioni? Per carità ci possono essere, ma questo è quasi impossibile. È molto, molto, molto difficile trovare due stringhe che abbiano lo stesso output. E poi, come vi ho già detto, un piccolo cambiamento nell'input genera grandi cambiamenti nell'output. Non nella lunghezza dell'output, ma nell'output. Vediamo un'applicazione. Voi fate l'account per un sito. Definite un username paolo.rossi. Ci abbinate una password canico noto croccantini. Se il sistema creasse il database e inserisce username paolo.rossi password canico noto croccantini, se qualcuno avesse accesso a un database, legge username paolo.rossi password canico noto croccantini ed entra già nel sito al posto vostro. Benissimo. Per ovviare a ciò, si utilizza l'hash. C'è alcun'altra cosa. Il sale è una quantità random, diversa per ogni username, che viene abbinata dal sistema a ogni username paolo.rossi. Il sistema gli assegna il sale a 812. punto esclamativo F-Y-J-L. Paolo.rossi si definisce la sua password canico noto croccantini. Per il sistema, la password è il punto esclamativo F-Y-J-L. Questa roba viene in parte la funzione asce, che genera la stringa C3C bla 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 986. E questa sarà salvata nel sistema. Quindi, se un accesso al database legge paolo.rossi c3c bla 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 986, da C3C bla 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 986, proprio perché l'hash è difficile da invertire, non riuscirà a risalire alla password. Guardiamo un'altra applicazione dell'hash function, il commitment. Allora, questo è un esempio carino. Per spiegarvelo, vi faccio l'esempio di giocare a pari o dispari al telefono. Adesso io non penso che voi, quando noi finiremo questa mattinata, chiamerete qualcuno e direte, oh dai, giochiamo a pari o dispari al telefono. Mi immagino che non lo farete mai. Ma il commitment è una cosa matematica. Ci sono alcuni protocolli matematici in cui effettivamente c'è il commitment. Come esempio vero di commitment, si può fare i pari o dispari al telefono. Allora, io telefono a Sara, le dico, oh dai, Sara, non so cosa fare, ti va di giocare a pari o dispari? E dai, va bene. Io le dico, guarda, io scelgo dispari perché il mio nome ha un numero di dispari di lettere. Lei fa il mio nome ha quattro lettere, pari, perfetto. E allora dico, io gioco due. E lei fa, io gioco due, pari. Due più due, quattro, vinto io. Così è troppo comoda. Che gusto c'è? Allora io le dico, guarda, Sara, io ti do, io dico, penso, fra me e me, voglio giocare due. Penso a una stringa che termini con due. Una stringa qualsiasi. Calcolo l'hash di questa stringa e mando a Sara, su WhatsApp, le mando l'hash di questa stringa e lei vede l'hash di questa stringa. E allora mi dice, io voglio giocare tre. E io le dico, ah, io ho giocato due, due più tre, cinque, ho vinto io. Allora lei mi dice, ma come? Chi mi dice che tu hai giocato tre? E io, eh, guarda l'hash. Io ti dico, io ho pensato alla stringa AXK3. E l'hash è proprio quello. Lei si calcola l'hash di AXK3 e dice, ah, hai ragione, hai giocato tre. Bene, e quindi hai vinto tu. Bene, per giocare a pari o dispari al telefono bisognerebbe fare così. Questo è un esempio, ma come ho già detto, non penso che giocherete mai a pari o dispari al telefono, però ci sono protocolli matematici dove si usa il commitment. Cosa sono le blockchain? Come dice il nome stesso, le blockchain sono catene di blocchi, dove ogni blocco contiene una serie di informazioni. Su ogni blocco ci sono le informazioni vere e proprie, quindi il dato, quello che effettivamente io voglio inserire. E oltre all'informazione c'è un timestamp che è il momento esatto in cui viene inserito il blocco nella blockchain. Quindi se il blocco è inserito oggi, ci sarà 25 febbraio 2021, 9,54. E poi c'è un nonse che è una quantità casuale che non ha niente a che fare con le informazioni, che vedremo tra un po'. E dopo c'è l'hash del blocco precedente. Quindi tutto il blocco precedente viene calcolata la funzione hash e questo hash viene salvato nel blocco successivo. Quindi come funziona? Si prende un blocco, in ogni blocco c'è l'hash del blocco precedente, il timestamp, il momento in cui è stato messo in catena, l'informazione vera e propria e questa quantità nonse. Tutto il blocco viene preso, viene dato in pasto alla funzione hash, viene calcolato l'hash e l'hash è salvato nel blocco successivo. Quindi anche questo blocco avrà l'hash del blocco precedente, il timestamp, le informazioni vere e proprie e la quantità casuale. Così via tutto il blocco viene calcolato l'hash e viene inserito nel blocco successivo. Per inserire un blocco nella catena questo deve essere validato, quindi non è semplicemente che si calcola l'hash e si mette nel blocco, ma bisogna stabilire una regola. La regola è per esempio l'hash dove iniziare con otto zeri. Quindi si calcola l'hash di tutto il blocco, si vede per esempio che inizia con tre zeri e si dice no questo non è un blocco valido. Allora si inventa un altro nonse, si calcola di nuovo l'hash, si vede che l'hash inizia con cinque zeri, non è valido, si calcola un altro nonse casuale, si inserisce lì, si calcola l'hash, magari stavolta l'hash comincia con dueci zeri. Va bene perché io volevo che cominciasse con otto, quindi anche se comincia con dieci mi va bene. Adesso comincia con otto zeri, posso inserire il blocco in catena. E quindi così via, e questo fa in modo che comunque occorre spendere delle risorse per inserire il blocco in catena. E è qui che entra in gioco il gas. Allora il gas è il costo per effettuare operazioni sulla catena. Diciamo non è gratis effettuare operazioni sulla catena. Questa è anche una tutela per evitare attacchi, DOS vuol dire denial of service, cioè impediscono un servizio. Diciamo un esempio, c'è un bar che lavora tranquillo, adesso anche in tempo di Covid magari può entrare solo una persona alla volta. E allora entra una persona, va al bar solo per prendere due bustine di zucchero. Tutti gli altri devono aspettare, perché non possono esserci più di una persona dentro, esce, ne entra un'altra, prende due bustine di zucchero. Esce, entra un'altra, prende due bustine di zucchero. E così è una fila chilometrica dove ogni persona entra per prendere soltanto due bustine di zucchero. Questo impedisce al bar di lavorare e quindi crea una mancanza di servizio, un denial of service. Se invece la bustina di zucchero costasse 5 euro, non è che tutti entrerebbero soltanto per prendere una bustina di zucchero pagando 5 euro solo per impedire al bar di lavorare. E quindi un po' lo scopo del gas è questo, così la gente è disincentivata a fare innumerevoli transazioni vuote allo scopo di impedire il corretto funzionamento della blockchain. Inoltre il gas serve anche appunto per la proof of work, quindi tutto il metodo di ogni volta calcolare il NONS, calcolare l'ASH, verificare che l'ASH cominci con 8-0, inserire un nuovo NONS, calcolare l'ASH. tutto questo ha un grosso costo e ci sono dei miner che lo sostengono. Grazie al gas i miner recuperano questo costo che viene così abitato a chi esegue la transazione. Quindi chi esegue la transazione accetta diciamo oltre le transazioni c'è una piccola tassa la proprietà principale è l'immutabilità dei blocchi. Lo bisogna modificare grazie alla proprietà e la proprietà principale è la funzione terminale. Christopher mi senti? E come abbiamo visto c'è la funzione Christopher mi senti? Christopher? Sì? Ok. Ok. C'è stato un reddito di commissione. Sì? Sono arrivate delle domande e allora Riccardo ci chiede non ho capito perché serve il sale per memorizzare la password. Non si può semplicemente memorizzare l'ASH della password se serve il sale? Poi chiede perché serve se c'è già il timestamp nei blocchi intendo e poi non ha capito cosa fanno i miner in tutto questo. Ecco una domanda tre domande in una. Allora perfetto. allora il sale serve perché supponiamo che io come allora la password c'è tutti gli anni esce una classifica delle password più usate nel mondo e la più usata è da svariati anni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e se non ci fosse e siccome abbiamo visto che l'ASH è deterministico se sia io che tu che te scegliessimo la password 1, 2, 3, 4, 5, 6 il suo ASH sarebbe lo stesso e quindi nel database ci sarebbe salvato Christopher.spennato con l'ASH di 1, 2, 3, 4, 5, 6 Paolo.rossi con l'ASH della password 1, 2, 3, 4, 5, 6 uno prende il database e vede che gli ASH sono gli stessi ok non ha comunque la password però per tentativi riesce a indovinare la mia password vedendo nel database che il tuo ASH è lo stesso del mio ha beccato la mia password e ha beccato anche la tua invece col sale anche se io e te scegliamo le stesse password il dato salvato nel database è diverso uno poi due che mi sono qual'era l'altra? la trovi nella chat ok forse no perché un messaggio diretto dice perché serve se non c'è il timestamp nei blocchi e poi chiede cosa fanno i miner in tutto questo ok allora perché allora il timestamp e il nonce non sono collegati il timestamp mi dice semplicemente il momento in cui il blocco è stato inserito nella catena quindi quello ti dà una prova temporale è un come un certificato temporale di quando il blocco è stato validato il nonce serve per validare il blocco appunto per creare difficoltà per dare questa operazione da fare per validare il blocco cioè il nonce è una quantità caso si calcola l'ash e dopo appunto bisogna inserire un nonce casuale tutte le volte finché non viene rispettata la regola allora c'è un motivo preciso per cui proprio 8-0 8-0 me lo sono inventato adesso non c'è una regola precisa in realtà c'è ma cambia nel tempo perché la blockchain si autoregola in modo tale che il tempo quindi la potenza di calcolo dei computer col tempo migliora quindi magari oggi la regola è l'ash deve iniziare con 30-0 tra un mese sarà 32 perché la potenza di calcolo è maggiore o magari tra un mese ci sarà meno gente che è interessata alla blockchain ci sarà meno gente invece che 30 sarà 25 questa è una regola che viene aggiornata giorno per giorno dalla blockchain per fare in modo che la difficoltà sia sempre uguale i miner sono quelli che validano i blocchi sono quelli che si prendono l'incarico di calcolare il nonce e gli hash e di inserire i blocchi nella crema allora come stavo dicendo prima di perdere un po' la connessione su ogni blocco è salvato l'ash del blocco precedente siccome l'ash per una piccola modifica crea grandi cambiamenti se io modifico anche appena appena il dato del primo blocco l'ash di tutto il blocco cambia e il problema è che uno vede la blockchain e dice ma come nel secondo blocco c'è questo hash e dopo dice vediamo se il blocco 1 è giusto allora dall'ash che legge lì non può vedere qual è il blocco 1 perché l'ash non è invertibile però può andare a prendere il blocco 1 calcolare l'ash e vedere che l'ash che dovrebbe essere non coincide con l'ash che c'è nella catena quindi se uno vuole andare a modificare il blocco 1 proprio grazie alle proprietà dell'ash deve andare a modificare tutti i blocchi successivi considerando questo e la difficoltà di aggiungere ogni volta il non per fare in modo di rispettare la regola diventa praticamente impossibile andare a modificare un'informazione salvata all'interno della blockchain decentralizzazione e mancanza di autorità centrale come vedete dal disegnino non c'è un'autorità centrale come per esempio la ruota di una bicicletta con il mosto e tutti i raggi che ci puntano lì ma ci sono un sacco di pallini tutti collegati tra loro perché ogni utente possiede una copia di tutta la catena quindi chiunque può vedere chiunque potrebbe andare a vedere l'ash e vedere che un blocco è stato modificato e inoltre se ha le adeguate risorse può validare i blocchi allora per inserire un blocco fraudolento quindi quando parliamo perché lo scopo principe della blockchain la sua invenzione è stata per gestire le transazioni di criptovalute quando si fa una transazione si dice per esempio io ho dato 10 euro a Sara non 10 euro ma 10 criptovalute a Sara e lo metto nella blockchain tutta la blockchain sa che io ho dato 10 criptovalute a Sara e quindi io quelle 10 criptovalute non ce le ho più e tutti sanno che ce le ha Sara invece potrei provare diciamo a ingannare la blockchain a ingannare Sara e dire a Sara che io le sto dando 10 euro 10 criptovalute per fare questo non lo devo dire a tutta la blockchain che sto dando 10 criptovalute a Sara perché se lo dico a tutta la blockchain dopo io per la blockchain quelle criptovalute lì non ce le ho più ma ce le ha solo Sara io dovrei fare in modo di creare un blocco che vede solo lei e che le dico che le ho dato 10 criptovalute se ci riesco a convincerla che io le ho dato 10 criptovalute a darle il blocco lei dice perfetto le 10 criptovalute me le ha date io e lui siamo a posto però il resto della blockchain non lo sa per il resto della blockchain io quelle 10 criptovalute non le ho mai date quindi quelle 10 criptovalute le posso spendere io e non lei questo non ce la faccio a farlo è praticamente impossibile perché devo riuscire a validare un blocco solo per Sara in cui le dico che le sto dando 10 criptovalute ma tutto il resto della blockchain sta validando le transazioni che si vogliono rendere visibili a tutte e quindi la potenza di calcolo di tutto il resto della blockchain è molto maggiore della mia e di sicuro valideranno prima loro le transazioni corrette quelle universali quelle effettive per tutta la blockchain piuttosto che io che dico a Sara che le sto dando 10 criptovalute diciamo per farlo dovrei possedere più della metà della potenza di calcolo dell'intero sistema e quindi più la blockchain è grande più è sicura e questo invece si parla di quando si parla di transazioni quando si parla di informazioni sulla blockchain si inseriscono se si vogliono certificarle bisogna farlo a priori la blockchain non serve per certificare informazioni se io voglio scrivere sulla blockchain l'Italia a forma di ananas lo posso scrivere se voglio che tu però si può fare in modo chiedere a un'autorità esterna a un certificato faccio certificare un'informazione o un documento e lo inserisco in blockchain già certificato la cosa sicura è che una volta certificato una volta inserita l'informazione in blockchain non può essere modificata le altre proprietà sono trasparenza e tracciabilità grazie al fatto che ogni partecipante della blockchain ne possiede una copia così tutti possono visualizzare le informazioni inserite nella catena appunto il fatto che io ho dato 10 monete a Sara è visibile tutta la transazione tutta la blockchain lo sa io quelle 10 monete non le posso più spendere le potrà spendere Sara chiunque le può verificare il fatto della decentralizzazione garantisce anche che non ci siano censure che non è che un contenuto non si può scrivere perché non fa piacere al gestore della blockchain la blockchain è nata nel 2008 per tenere traccia delle transazioni della criptovaluta bitcoin il suo ideatore è Satoshi Nakamoto di lui non sappiamo nulla non conosciamo la sua identità non sappiamo neanche se è una persona singola oppure un team è nata per gestire le transazioni ma adesso grazie alle sue proprietà soprattutto all'immutabilità è utilizzata per altri ambiti di applicazione per esempio registrare e notarizzare documenti avendo la certezza che un documento inserito in blockchain quello è non può più essere modificato voto elettronico si può utilizzare per un voto elettronico in modo tale da fare un sistema di voto sicuro in quel caso si votare un candidato che vorrebbe a fare una transazione verso di lui per inserire la transazione come si fa? allora chiunque partecipa alla blockchain ha un nodo della blockchain si chiamano nodi la blockchain è decentralizzata i nodi della blockchain appartengono a tutti i partecipanti ogni partecipante ha una chiave privata per inserire la transazione in blockchain occorre firmarla con la propria chiave privata un po' come quando si vuole fare un bonifico con un banking per fare un bonifico bisogna utilizzare la password che ti dà la banca e che ti crei anche al momento con l'one time pad e senza chiave privata se non la firmi con la chiave privata non è valida ecco perché se io dico alla blockchain che ho dato 10 monete a Sara e la sa tutta la blockchain l'ho anche firmata con la mia chiave privata quella transazione è stata effettuata non c'è la possibilità che poi dicono no ma io non l'ho mai fatta quella allora esempi che ci saranno utili per gli smart contract della logica proposizionale if then se allora la più semplice se domani è domenica mi sveglio alle 10 quindi è sabato sera so che domani è domenica metto la sveglia alle 10 io questo semplicemente dicendo che se domani è domenica mi sveglio alle 10 se domani non è domenica posso fare quello che voglio posso anche svegliarmi alle 10 non ho detto che mi sveglio alle 10 solo se domani è domenica quello che lì c'è scritto è che se domani è domenica mi sveglio alle 10 gli altri giorni posso svegliarmi alle 7 alle 8 alle 9 alle 10 quando mi pare se oggi pomeriggio c'è il sole e sull'alto piano c'è l'ive allora vado a sciare sci di fondo perché gli impianti di discesa sono chiusi allora e vuol dire che devono essere verificati tutti e due quindi oggi pomeriggio deve essere una bella giornata deve esserci il sole e contemporaneamente deve esserci la neve se c'è il sole e non c'è la neve non posso andare a sciare se c'è la neve e piove non mi diverto non mi diverto ad andare a sciare non ci vado quindi e devono essere vere tutte e due se oggi pomeriggio piove oppure c'è il derby Inter Milan in tv sto a casa oppure almeno una delle due quindi oggi pomeriggio piove sto in casa oggi pomeriggio c'è Inter Milan la voglio vedere indipendentemente dal tempo che c'è fuori sto a casa sono vere tutte e due piove e c'è il derby a maggior ragione resto casa quindi non vuol dire solo una delle due quando c'è oppure in questo caso è tutte e due se oggi pomeriggio non ho un impegno lavorativo vado a mangiare fuori quindi oggi pomeriggio ho una giornata libera ho tempo di mangiare fuori vado a pranzo fuori se oggi pomeriggio avesse un impegno lavorativo magari vado fuori lo stesso non ho detto niente di cosa farei se ho l'impegno lavorativo ho detto solo quello che faccio se non ho l'impegno lavorativo se l'Inter vince lo scudetto vado a Milano a festeggiare finisce il campionato l'Inter vince lo scudetto io vado a Milano a festeggiare se vince lo scudetto in Milano sono libero di decidere posso stare a casa oppure posso lo stesso andare a Milano a festeggiare perché anche qua io ho detto cosa faccio se l'Inter vince lo scudetto non solo se l'Inter vince lo scudetto negli altri casi posso fare quello che voglio se invece l'Inter vince lo scudetto di sicuro non sto a casa ma vado a Milano a festeggiare l'ultima se oggi pomeriggio ho un impegno lavorativo non vado a correre diciamo oggi avrei voglia di fare jogging ma ho un impegno lavorativo non posso andare a correre se non ho l'impegno lavorativo posso decidere sono libero di andare a correre come di non andarci questi esempi mi servono per la logica degli smart contract gli smart contract sono dei contratti smart basati su blockchain serve un account di chi crea il contratto l'indirizzo identificativo io creo il contratto non inserisco in blockchain il contratto deve sapere che l'ho creato io il contratto è la sequenza logica di azioni che medie il trasferimento di beni tra le parti quindi diciamo si decide cosa deve succedere in che caso ci sarà una ricompensa in che caso ci sarà da pagare qualcosa e questo è il contratto e poi l'account di chi utilizza il contratto quindi io creo il contratto lo salvo in blockchain Sara lo utilizza e al momento in cui lo utilizza viene conosciuto il suo account e deve essere noto anche questo lo smart contract è salvato nella blockchain che diventa la garante il garante di un contratto che a questo punto è inviolabile il contratto è questo e bisogna rispettarlo è autoeseguibile nel senso che il contratto è quello sulla blockchain c'è scritto dove vedremo esempio un po' più effettivo ma supponiamo no sulla blockchain c'è scritto e se spendo 10 euro se se al mcdonald's spendo 10 euro mi arriva il menu completo spendo 10 euro mi arriva in automatico il menu completo al tavolo non c'è nessuno che deve controllare se io effettivamente ho pagato 10 euro è autoeseguibile una volta che è verificata la condizione si realizza quello che deve essere realizzato è vincolante a valore giuridico la sua logica è del tipo if then quindi se succede qualcosa allora fai succedere quest'altro l'esempio classico di smart contract è la macchinetta del caffè delle bevande dei cibi c'è la logica if then se inserisco le monete per un valore pari superiore a quello indicato dalla bevanda che voglio e premo il suo pulsante allora in automatico la macchinetta mi dà la bevanda e forse mi dà il resto questo per farvi vedere che dipende dall'implementazione perché la macchinetta come può essere programmata che se la bottiglietta d'acqua costa 50 centesimi e io metto un euro e premo il pulsante della bottiglietta d'acqua la bottiglietta me la dà se c'è dopo o mi dà il resto o si mangia il resto se lo mangia lei oppure lo tiene salvato per il prossimo pulsante che viene premuto per il prossimo utente che arriva comunque c'è la logica if then se inserisco le monete e premo un pulsante auto eseguibile in automatico ho una bevanda e in base all'implementazione potrei avere anche il resto un altro esempio è nelle assicurazioni si può stipulare l'assicurazione io devo fare un volo importante so che non posso permettermi i ritardi mi tutelo faccio un'assicurazione che se l'aereo ha un'ora di ritardo devo avere un pagamento in bitcoin si salva il contratto in blockchain si fa dialogare la blockchain col terminale dell'aeroporto se il volo ha il ritardo di un'ora almeno in automatico mi arrivano i bitcoin questo in automatico ci può essere il problema che ci siamo sbagliati a scrivere lo smart contact l'abbiamo scritto a nostro vantaggio se il volo ha più di 30 minuti di ritardo in quel caso nello smart contract c'è scritto quello se l'aereo avesse 35 minuti di ritardo avrei il corrispettivo in bitcoin c'è stato un errore nella scrittura dello smart contract però quello è mi verrebbe pagato allo stesso modo l'errore potrebbe essere a meno svantaggio invece che 59 minuti è stato programmato per 3 ore di ritardo quello è lo smart contract quella logica viene eseguita esente dall'errore umano infatti non in questo senso ma nel senso che una volta che la condizione IF è realizzata il pagamento viene effettuato a quel punto non c'è nessuno che si può sbagliare perché nessuno deve verificare che effettivamente c'è stato questo ritardo c'è stato il pagamento avviene per mettere per mettere lo smart contract nella blockchain occorre energia computazionale che è il gas che viene pagato al momento della creazione dello smart contract dall'utente allo stesso allo stesso modo uno smart contract avrà delle funzioni al suo interno adesso dopo lo vedremo meglio con Sara la funzione ha lo smart contract ha delle funzioni l'utente al momento di eseguire le funzioni deve spendere del gas torniamo all'esempio iniziale quello della macchinetta il proprietario della macchinetta paga la scuola per mettere la macchinetta dentro per l'energia elettrica che utilizzerà la scuola dopo gli studenti vogliono le bevande al momento la funzione è in questo caso dammi l'acqua dammi la coca dammi il caffè dammi i biscotti ognuna è una funzione all'utilizzo di ogni funzione devo spendere i soldi per comprare la bevanda la problematica è appunto una volta inserito in blockchain il contratto è immodificabile appunto se c'è qualche errore ormai lo smart contract c'è se le condizioni sono imprecise non sono state pensate bene se si realizzano si realizzano non si può più cambiare e lo è ed è immuttabile questo è risolto a priori si dice by design ci sono dei team che sono dedicati apposta all'analisi e al debugging dello smart contract e poi non è che lo smart contract viene subito inserito nella blockchain esistono delle blockchain di test che sono effettuate apposta nelle blockchain di test si possono avere gratis diciamo il gas i soldi da spendere perché tante non sono in quel caso monete reali ma sono solo di test si fanno i test su questa blockchain si fanno varie prove finché non si ha una ragionevole certezza che il contratto sia posto e a quel punto si inserisce nella vera blockchain grazie dell'attenzione per chi è stato attento ho finito grazie 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 guardiamo se è arrivata qualche domanda prova a vedere anche sulla tua chat ok allora tanto stoppo lo schermo non mi risulta ok bene allora andiamo avanti è il momento di Sara giusto? no ci sarebbe il quiz lo schermo ok allora spieghiamo ai partecipanti come come si svolge ok allora puoi anche mostrare la mostrarti in video se ok proviamo sperando di non perdere la connessione allora bisognerebbe semplicemente andare online sul sito slido punto com lo scrivi in chat magari ok dovrebbe essere questo magari magari vi posso proprio il URL corretto aspettate un attimo vi mando il secondo questo ma c'è proprio il link va bene va bene aspetta aspetta no l'ho mandato come messaggio ho sbagliato ecco ci sono l'avevo mandato solo a Mirko mi ero sbagliato ok adesso l'ho mandato a tutti ok e adesso vi devo passare anche il codice che è questo quindi dove c'è scritto joining as a participant to slide in top door scrivi il codice ciao Grazie. Aspettiamo ancora un attimo, abbiamo gli studenti che si stanno collegando. Grazie. Ok, dai, abbiamo un numero di utenti, dai, partiamo. Ok, via. Qual è falsa? E le opzioni. Grazie. Allora, vediamo, alla fine c'è stato un sorpasso di quello sbagliato sulla giusta. Vediamo, correct answer, era la c'. Allora, la stringa a è quasi certamente diversa dalla b, anche se cambia solo per la parola non, l'output sarà completamente diverso. Quasi certamente. Esiste la possibilità che ci sia una collisione che le due stringhe output siano uguali, ma è minima. Quasi certamente sono diverse. Conoscendo i due output è quasi impossibile capire come è stato modificato il primo per ottenere il secondo, proprio perché sono difficili da invertire. Dagli output non si riescono ad avere informazioni sull'input. La stringa a è più corta di quella b, è falsa, perché abbiamo visto che hanno tutti la stessa lunghezza indipendentemente dall'input. È deterministica, quindi se io mille volte ricalcolo l'ash di roma in una bella città, ottengo sempre lo stesso risultato. Quindi chi ha messo l'ash di roma ci ha preso e sono cinque persone. È in testa Lucia per ora. Grazie. Allora, va bene, tutti avete capito che non viene memorizzata semplicemente la password. Allora, si calcola l'ash e poi si memorizza in tabella? No, perché c'è il sale. Proprio per evitare che la password sia la stessa, che se due hanno la stessa password uno riesca a capire che almeno due autenti hanno usato la stessa password. L'unico dubbio, legittimissimo, può essere se prima si aggiunge il sale e poi si calcola l'ash, oppure prima si calcola l'ash e poi si aggiunge il sale. La procedura è che prima si aggiunge il sale e poi si calcola l'ash. Come il 77% di voi ha detto. Sorpasso in letta Marco P è primo. Irenieri tallona. Ah, perché qua viene calcolato anche il tempo di risposta. Sì, sì, in caso di parità vince il tempo. Ah no, perché anch'io ho risposto giusto, scusate se... Grazie. 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 Allora, avete capito tutti che il blocco ripetuto due volte era lì giusto perché era un'opzione carina. Allora, la data non in cui è stato validato il blocco precedente, ma in cui è stato validato lui. Non il nonce del blocco precedente, ma un nonce suo, invece contiene l'ash del blocco precedente. Quindi sì, il 77%. Di nuovo, chissà se è lo stesso di prima. Un nonce del blocco precedente, ma un nonce del blocco precedente. Grazie. 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 Allora, io quello che voglio garantire con la blockchain è l'immutabilità dei dati veri e propri. Quindi fare solo l'ash del nonce non è lo scopo, non è quello nella blockchain. Il nonce serve perché l'ash dell'intero blocco inizi con un numero determinato di zeri. È l'intero blocco. Se ci fosse l'ash soltanto dei dati, non si potrebbe fare il giochino del nonce perché se l'ash prendesse solo i dati, allora per quanto vada a modificare i nonce non ce l'avrò mai l'ash che inizia con 30 zeri, ma dovrei cambiare i dati. Ma io non voglio cambiare i dati e il timestamp non mi interessa, quindi il nonce serve appunto perché l'ash dell'intero blocco cominci con un numero determinato di zeri. Quindi non si fa soltanto l'ash del nonce, ma l'ash dell'intero blocco. Grande Mirko! È una vecchia volpe Mirko, lo conosciamo. È una vecchia volpe Mirko, lo conosciamo. È una vecchia volpe Mirko, lo conosciamo. Qual è il codice da inserire su Slido? Perché qualcuno aveva perso la connessione. 26 118. Allora, qua la proof of work è proprio l'algoritmo per inserire un nuovo blocco nella blockchain. Calcolare il nonce e calcolare l'ash di tutto il blocco, verificare che cominci con un determinato numero di zeri è la proof of work. È l'algoritmo per inserire il nuovo blocco nella blockchain. La dimostrazione che le informazioni inserite nella blockchain siano certificate non è la proof of work. In realtà non lo fa la blockchain questo. Inserire un'informazione certificata per con quanto è dimostrare che io la transazione l'ho fatta, ma parlando in senso più generico di informazioni, non è la blockchain che lo certifica. Lì per certificare l'informazione in sé, servirebbe un'autorità prima, la certifica dice questa è corretta. La mettiamo in blockchain e poi non possiamo essere modificata. La blockchain è quello che garantisce l'immutabilità nella certificazione, se non per le transazioni, che è un discorso un po' diverso perché serve la propria chiave privata, perché tu hai detto a tutta la blockchain che l'hai fatta, tutta la blockchain sa che tu hai speso quei bitcoin e quei bitcoin non ce li hai più. Se tu non li hai spesi ma dici che li hai spesi, sono affari tuoi perché tu per tutta la gente li hai spesi e quindi non ce l'hai più. Tipologia di smart contract e linguaggio di programmazione oggetti erano, diciamo, un po' inventate. Quindi questa l'avete fatta giusto in pochi, però Mirko l'ha fatta giusta. Grazie. 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 Allora, il gas è proprio il costo per effettuare operazioni sulla blockchain. Partecipare alla blockchain di per sé non ha un costo, avere un nodo. Quello che si paga è, una volta che ci sono dentro, effettuare delle transazioni, delle operazioni. Per affittare i server che memorizzino i dati, ok, ha un costo, ma non è il gas. Solidity, come vedrete dopo, è un linguaggio di programmazione oggetto totalmente gratuito che non si paga neanche. Quindi ha indovinato chi ha messo a più della metà. E fanno indovinare ci sarà Mirko in questa metà. E infatti c'è. Sono curioso di vedere se ne sbaglierà qualcuna. Siamo quasi a metà. Vediamo se qualcuno recupera. E la prossima domanda. Grazie. 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 Allora, all'interno della blockchain ci sono solo informazioni certificate? No. Si possono certificare, va fatto prima, si possono inserire informazioni certificate, ma non è un vincolo. Più è piccola la blockchain, più è sicura. Allora, per riuscire a fare transazioni, diciamo a convincere Sara che l'ho dato 10 bitcoin e solo lei, quando invece non glielo ho dati, dovrei avere la metà della potenza di calcolo della blockchain. Più è piccola, più è facile che io riesco ad avere la potenza di calcolo necessaria. Quindi al contrario, per rendere più sicura la blockchain, conviene aumentare la dimensione, aumentare il numero di partecipanti. Una volta inserita un'informazione al suo interno è praticamente impossibile modificarla. Giusto, è la proprietà della blockchain. Nessuno ha risposto all'ultima, quindi non la commento neanche. Grande Mirko, per ora un plane, 7 su 7. E a sto punto mi sa che la lotta è per il secondo posto, che ci sono 12 persone che ne hanno fatte 4 su 7 corrette. E quindi lì o qualcuno sbaglia o è questione di tempo. Sembra affodato che poi Mirko non faccia qualche strafalcione, come il motociclista che cade all'ultima curva e vince qualcun altro. Grazie a tutti. Grazie. Allora, sono tutte applicazioni possibili della blockchain, ma perché è nata? Per gestire le transazioni di bitcoin. Le altre sono diventate applicazioni a posteriore. Se è visto la blockchain a questa proprietà, possiamo usarla anche per fare queste cose. Ma la nascita è per i bitcoin. Sempre Mir, 8 su 8. Penso che la gara per il primo posto non ci sia più, però lottate per il secondo, per l'argento. Questa è una domanda filler. Grazie. 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 Grazie a tutti. Ok, questo era solo mi volevo divertire quando ho scritto le domande. Poi avete indovinato tutti. Però per Leonardo ho perso un po' di secondi di vantaggio, perché prima ne aveva 20 e adesso ne ha 17. Occhio falsa. Occhio falsa. Grazie. 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 un if devo andare in banca a ritirare i soldi, no, perché si autosegono solidi che linguaggio per scrivere smart contract, non l'avevo detto ma già la C era falsa e quindi la risposta giusta, cioè falsa, era devo andare in banca a ritirare i soldi perché lo smart contract si autosegono, se gli if sono verificati i soldi arrivano in automatico. Urca, vabbè Mirko sempre primo, ci sono ancora cinque domande in teoria, no, forse ne ho tolte un po', mi sa che Mirko ormai ha vinto, però c'è la lotta serrata per il secondo posto che siete ancora in sette con lo stesso numero di risposte esatte e c'è Leonardo che ha un piccolo margine di sette secondi sul primo il seguitore e poi di un minuto sugli altri. Vediamo che succede. Aspettate che si è impallinata la connessione. Ok, urate. Grazie. 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 Allora, la prima non ha risposto a nessuno, quindi commento le altre tre. se compro un ambito troppo largo e lo restituisco, me lo cambiano, bisogna portarlo, c'è qualcuno che deve verificare che effettivamente è troppo largo, che l'hai portato entro il tempo corretto, non è uno smart contract. Se parcheggio l'auto in divieto di sosta, le forze dell'ordine mi rimuovono il veicolo. Questo implica che arrivano le forze dell'ordine, verificano e rimuovono il veicolo. L'ultima, se sul registro la media dei voti è maggiore di 6, vengono automaticamente promosso. Questo si autoesegue. Magari la condizione IF è sbagliata, perché se non sbaglio dovrebbe essere che bisogna avere tutti i voti maggiori di 6 e non la media dei voti. In questo caso, magari è stato scritto male, però lo smart contract è questo, è l'unico che si autoesegue, perché gli insegnanti registrano il voto sul registro, fine, se la media è superiore di 6, automaticamente sono promosso. Punto. Grande Mirko, Ranieri ha passato il Leonardo di un secondo. Vediamo, la notte per l'argento è sorrattissima. Qua vera. Grazie. 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 No, il secondo c'era Nero in vantaggio, ma se sbaglia è qualcuno tra Leonardo Alice, Marco Solferini e G. Indovina, potrebbe farcela. Certamente vera. Certamente vera. Certamente vera. Certamente vera. Certamente vera. La seconda. Se ho l'ombrello, allora torno a casa a piedi. Io non ho detto questo. Io ho detto cosa faccio se non ho l'ombrello e piove. Ma io lo stesso potrei avere l'ombrello ma non aver voglia di tornare a casa a piedi. Chi lo sa? Se torno a casa a piedi e non ho l'ombrello, allora non piove. Allora io sto tornando a casa a piedi, effettivamente. Io avevo detto che tornavo a casa a piedi se non aveva l'ombrello e pioveva. Io sto dicendo che torno a casa a piedi e in più non ho l'ombrello. Allora di sicuro per tornare a piedi non deve piovere. Quindi questa è vera. Vediamo perché è sbagliata l'ultima che era un trabocchetto apposta. Infatti è stata la più risposta. Qua dice se non piove oppure piove ma ho l'ombrello, torno a casa a piedi. No, io non ho detto questo. Io ho detto che se non ho l'ombrello e piove non torno a casa a piedi. Non ho detto cosa faccio se questo non è vero. Quindi se ho l'ombrello oppure non piove posso fare quello che voglio. La domanda dice è certamente vera. Non è certo che torno a casa a piedi. Posso deciderlo. 8% giuste. Ha vinto Mirko. Ah, che ha sbagliato l'ultima. 11 su 13. Poi argento, ranieri. E poi bronzo per questioni puramente di tempo. a Leonardo con 12 secondi di vantaggio sul primo inseguitore, cioè Alice. Fine. Bene, come procediamo adesso, Christopher? Adesso passo la parola a Sara che mi fa vedere programmazione di smart contract. Bene. Prego Sara. Io mi muto e mi disattivo il video. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ok, salve a tutti. Ascoltate. Per quest'ora in realtà io dovrei aver già finito ed era prevista la pausa. Se siete stanchi, visto che siamo un po' a ritardo, cinque minuti di pausa ve li potrei lasciare prima di iniziare, se no parto direttamente. Magari alzate la mano chi vuole fare pausa adesso e così controlliamo, perché capisco che è stata un po' pesante tutta la teoria. Adesso ricominciare da capo potrebbe non essere il massimo, ecco. Ok, due mani alzate. Basta. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, niente pausa. Allora, complimenti per l'energia a tutti. Per maggioranza inizio. Mi dispiace. Allora, un secondo. È stato attento. Esatto. Ok. Ok. Si vede? Ok, possiamo iniziare. Allora, basi di solidity. Adesso l'idea di questo laboratorio era farvi veramente mettere mano su uno smart contract. E per far questo ho bisogno di darvi un pochino di direttive. Avevo preparato delle slide, che sono queste, che poi tramite gli insegnanti o via chat vi condividerò per farvi vedere quello che dobbiamo fare. Ma preferisco, per, diciamo, andare un pochino più veloce e magari stare più appresso alle vostre esigenze, fare io un piccolo contratto dal vivo e prendere le vostre domande e magari rispondere e vedere la cosa con un pochino più di attenzione, un pochino più di interazione. Quindi partiamo dalla fine, in realtà. Allora, noi useremo un ambiente virtuale per lo sviluppo degli smart contract che si chiama Remix. Ide sta per ambiente di sviluppo. E il programma è linguaggio di programmazione soliti. È un linguaggio di programmazione oggetti. Non vi preoccupate se non avete mai sentito questa parola, significa solo che non è che io scrivo una serie di istruzioni come una ricetta, quindi io non è che scriverò prima fai questo, poi questo, poi questo, ma scriverò delle certe funzioni che si attiveranno alla pressione di alcuni pulsanti. Quindi non importa l'ordine con cui io scrivo le mie funzioni, queste verranno svolte nell'ordine in cui decideremo poi l'utente di usarle. Se io voglio fare una determinata transazione o fare una determinata operazione, è questione dell'utente. Quindi, Remix. Ide si trova online, quindi non dovete scaricare niente, abbiamo usato questo ambiente di sviluppo in modo da rendervi più facile possibile poi lavorarci voi. E quindi basta entrare sulla pagina online, adesso vi faccio vedere, e quindi vi troverete davanti questa schermata. Non vi preoccupate, le cose importanti da vedere sono quei tre bottoni a sinistra. Quindi, per vedere i file, per compilare e per usare l'emulatore. Adesso vi farò proprio vedere come si fa. Compilare... Significa che quello che scriviamo noi non è proprio leggibile dalla macchina. Ci stanno alcune regole di sintassi per scrivere le operazioni, e poi si controlla che quello che abbiamo scritto è... Che c'è? Sì. 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 E questo è tutto. Grazie. Scusate il problema tecnico, ho avuto un attimo. È caduta la connessione. Fatemi per favore sapere se mi sentite, se ci siete. Ti sentiamo, bene. Ok, allora, quindi, bando alle ciance, ricomincio la condivisione dello schermo. E come vedete, basta scrivere Remix IDE su Google, è la prima cosa che esce, remix.etherium.org. Questo sarà l'ambiente virtuale dove farvi lavorare. E questi sono i tre pulsanti di cui stavo parlando, non so se avete sentito. Questo è per gestire i file. Adesso ne creeremo uno nuovo. Chiamiamo primo programma. .sol, .sol significa solo che il linguaggio di programmazione è Solidity. Scusate la lentezza, ma... La connessione, spero regga. Allora, quindi creiamo questo file. Come vedete qua, possiamo scrivere quello che vogliamo, solo che serve una sintassi specifica per far sì che la macchina capisca cosa vogliamo fare. Quindi la prima riga di ogni programma è praticamente questa. Non vi preoccupate per la sintassi, poi vi allegherò un file con tutti i comandi che potete mettere all'interno di uno smart contract, diciamo quelli che vi saranno più utili. Quindi per programmare voi non vi preoccupate se vi scordate esattamente come si scrive un comando, non c'è nessunissimo problema. Quindi questo che cosa significa? Questa è la versione del compilatore. Allora, cosa è il compilatore? Il compilatore è quella parte che traduce quello che scriviamo per una cosa comprensibile alla macchina. Se non ci dà errori possiamo procedere, se ci dà errori dobbiamo sistemare. Quindi noi stiamo dando la versione, ce ne sono tantissime perché la blockchain è un ambiente in continua evoluzione, evoluzione ed è un ambiente molto dinamico. Non vi preoccupate, questa versione è solida, useremo la 0.7.4 e scriviamo proprio contract, il primo contratto. Quindi, ok, e adesso abbiamo il nostro contratto. Noi vogliamo mettere qualcosa dentro il nostro contratto. Cosa possiamo mettere? Possiamo mettere un numero, un intero, int per intero. Che ne so, int diamo il nostro, gli dobbiamo, alle variabili devono avere un nome, perché il programma si nomerizzerà il nome della variabile. Quindi io gli devo scrivere int, che ne so, numero, uguale 12, oppure int numero uguale meno 2. Vabbè, non posso scrivere, per esempio se io adesso scrivo int numero 2.5 e vado a compilare, mi darà errore perché il programma si aspetta un intero. E mi dice, guarda, questo intero non è. Se invece lascio un numero intero, o positivo o negativo, non mi dà problemi. O nullo, anche 0. E poi possiamo mettere una parola, per esempio string nome uguale, non lo so, nome a caso Christopher. Ok. Il punto virgola alla fine, ma come ho detto, questo vi lascerò un file per vederlo. L'ultima tipologia che vi voglio fare per andare veloce è l'address. L'address è effettivamente l'address di un nodo, quindi noi vogliamo che il nostro contratto invia o riceva Ether, abbia a che fare, firmi, documenti. Quindi dobbiamo inserirci un address. Adesso facciamo address, mio address. E adesso ci metto un address. No, uso... Questo adesso ve lo spiegherò, adesso mi serve solo per copiare un address. E arriviamo qua. Questi sono i tipi di variabili che posso inserire in un contratto. Ovviamente se io posso solo inserirci variabili, non ha molto senso. E quindi passiamo alla parte fondamentale, le funzioni. Funzione, function. Diciamo che non c'è molta fantasia ed è meglio così, è più facile da ricordare. Per esempio duplica, l'esempio che vi aveva fatto Christopher, in cui prendo un numero, un intero. Un intero, vabbè, adesso chiamiamolo n. Richiamiamolo numero. Numero, numero, ha scritto numero, ecco perché non c'è un numero. Due. Devono avere nomi differenti le variabili, io non posso metterne due uguali, perché sennò il computer potrebbe andare in conflitto. Quindi abbiamo che la nostra funzioncina prende un numero in input, quindi questo, tra le tonde, posso metterci tutto quello che voglio, che string, vabbè, nome a caso, e sempre due. Posso metterci in input quello che voglio e quello che la nostra funzione prenderà. Poi facciamo public, perché voglio che sia visibile a tutti. No, il view dopo. Un attimo. Returns. Cosa mi deve ritornare? Mi deve ritornare un altro int, perché io voglio che se metto 3 mi ritorni 6, gli devo anche specificare il tipo di ritorno. Returns si ricorda perché è la terza persona in inglese, la mia funzione ritorna, quindi function returns. Cosa deve ritornare? Dovrà ritornare il mio risultato, che è il doppio. Quindi devo prendere il mio numero, numero 2, che io ho dato in pasta all'inizio, e effettivamente fare il segno di moltiplicazione che per solidi è l'asterisco, per 2. Dobbiamo prendere questo risultato e poi ritornarlo. Quindi la mia funzione, io gli do il comando, quindi adesso è return senza S, di ritornare il mio risultato. Questo, anche se non fa chissà che, è comunque uno smart contract. Compiliamo, come vedi, ci dà il warning perché dice, ma perché hai fatto, poteva essere scritto in maniera più sintetica, ma io vorrei farvi vedere punto per punto le cose. Ok, abbiamo questo contratto, sappiamo che la macchina è in grado di leggerlo, dobbiamo metterlo in catena. Adesso noi stiamo usando un ambiente virtuale, JavaScript, infatti VM sta per virtual machine. Gli account che ci vengono dati sono account fittizi, quindi abbiamo un po' di account, tutti con 100 Ether. Ether sarà la nostra unità di misura del denaro. Vediamo qua il gas limit, cioè il numero di gas che io posso spendere per mettere un contratto sulla catena o richiamarlo. Adesso non ci interessa perché in un ambiente reale effettivamente questo corrisponde a una cifra in denaro. Adesso possiamo lasciarlo come ci interessa poco. Ora vediamo il value. Allora, lo smart contract segue la regola dei privilegi minimi. Quindi, uno smart contract, se io di mio non gli do un valore di una somma iniziale, lui non mi verrà mai a prendere cose che io non gli ho dato in anticipo. Quindi, per adesso, non dovendo fare transazioni, lasciamo a zero perché effettivamente siamo sicuri che lui, a parte il costo del gas, non ci toglierà niente. A parte il gas che ovviamente viene sempre tolto perché sto facendo operazioni, non ci verrà tolto altro. Controllo che il contratto sia proprio primo programma e faccio deploy. Quindi, se questa non fosse un ambiente virtuale ma fosse veramente una blockchain, questo sarebbe messo in catena. Io posso scrivere un numero, tipo per esempio 4, duplica e adesso vediamo cosa succede. Come vedete dalla spunta verde, la mia transazione, perché questa, anche se effettivamente non c'è nessuno scambio, viene chiamata transazione, è andata a buon fine. Questa è scritta sulla blockchain e come vedete il risultato su output, quello che la mia funzione mi ritorna, è effettivamente 8. Quindi, se io adesso metto meno 2, perderò un altro po' di gas perché ogni volta che io clicco su una funzione, come ci ha ben spiegato Christopher, perdo un po' di gas. Eccola, abbiamo un'altra spunta verde e abbiamo che il doppio di meno 2 effettivamente è meno 4. Se io metto un'altra cosa, tipo ciao, scrivo duplica, la mia transazione non sarà più verde, ma sarà rossa, infatti ci dà errore. Quindi, ce lo ricorda anche lui di mettere un intero, ci dice proprio int 256 è una misura massima, in binario può essere scritto al massimo con 256 caratteri. Comunque, anche se è una misura massima, è abbastanza grande, se io ci metto 3456 non ha problemi a duplicarmelo. Infatti, lo duplica e il risultato è 6.912. Adesso, io mettiamo un modo per che sia più facile vedere il risultato. Se io metto view, view è un comando che fa in modo che la mia funzione non possa modificare lo stato del contratto. Lo stato per contratto intendo queste variabili. Queste variabili è lo stato perché ci dice la condizione in cui è il contratto, cosa si porta dentro. Mentre i numeri che io inserisco da bottone sono all'interno della transazione, ma non mi modificano il contratto, questi numeri sono propri del contratto. Mettere view significa che questa funzione non mi modifica il contratto e me la rende anche di più facile utilizzo, perché se ricompilo e metto in catena un altro contratto, ogni volta che faccio deploy il contratto che metto è nuovo, non è che posso modificare nulla, come c'è stato ben detto più di una volta, e richiamo la stessa funzione 3 e clicco su duplica. No, quello dopo, scusate, eccolo, adesso è blu il bottone, clicco su duplica e il risultato mi appare più comodamente qua sotto. Questo è 6, solo che non si aggiorna, quindi se io adesso clicco K e mi viene errore, mi rimane il 6 di prima. Questo lo vediamo quando ci serve un po' più di sicurezza, è meglio non usare view. Quando una funzione non ci interessa la sicurezza di quello che deve uscirne fuori, si può usare view. Adesso io questi li elimino dal mio ambiente virtuale, ma solo per comodità mia di programmazione. Ok, ovviamente credo che vogliate fare qualcosa di un pochino più complicato che duplicare un numero all'interno di una funzione. Quindi io passerei... Esatto. Io passerei a una transazione vera. E a spiegarvi i comandi per una transazione. Poi chiuderei qui per darvi tempo di giocarci un po' voi, per fare, se volete, questa volta lo chiedo un altro quiz su queste cose, capisco che sono andata veloce, ma mi farebbe veramente tanto piacere se metteste voi veramente mano sul programma, più che vedere me che lo faccio. Allora, la transazione. Per fare una transazione, come ho detto, ho bisogno di un address. In questo caso effettivamente gli posso passare il mio address, che gliel'ho memorizzato prima. Allora, detto prima, principio dei privilegi minimi. Se io ho una funzione, non metto payable, lei non, a parte il gas, non gestirà Ether. Quindi ho bisogno che la funzione sia payable. Mettiamo un address, che è quello a cui vogliamo inviare Ether, quindi questo sarà il ricevente. anche lui deve essere payable, perché tutto ciò che riceve o prende Ether deve avere questa parolina. Questo serve per una sicurezza di programmazione. Come vedete, rispetto ad altri linguaggi di programmazione, è molto più, diciamo, ridondante o pesante, ma essendo immutabile ha bisogno di questa caratteristica. Non è un contro, ma in realtà è un pro. Vi facciamo ritornare un booleano. Booleano significa solo vero o falso. Quindi return true mi dice solo che è andato tutto bene. E adesso facciamo il nostro contratto. Vi farò vedere una funzione particolare chiamata require. Cosa devo chiedere per fare una transazione? Che io effettivamente abbia dei soldi da inviare. Quindi message.value è esattamente l'interno di quello che vi ho fatto vedere prima di value. Prende il valore che ho inserito qua. Quindi cosa vogliamo richiedere? Che effettivamente ci sia un tot da inviare. Quindi che il message.value sia strettamente maggiore di zero. Se no, non stiamo facendo niente. Se così non è, dobbiamo scrivere guarda, non hai immesso nulla. Possiamo, in caso di errore, dare dei messaggi all'utente per rendergli più facile l'utilizzo del nostro contratto. Poi, se funziona tutto, possiamo scrivere proprio ricevente.transact e il message.value, quindi i soldi che voglio effettivamente inviargli. Questo, come vedete, non ho usato il mio address, quindi se volete lo tolgo per evitare di crearvi casini. Non sto usando neanche numero e nome. In realtà, era solo per farvi vedere i tipi. E questo, adesso controlliamo col compilatore, però questo dovrebbe non dare nessun problema. No, ecco appunto. Bull. Public. Davvero, deve essere public. Ah, transfer. Ok, ci siamo. Ok, adesso andate tutto a posto. Piccoli errori così non vi devono preoccupare. Ci sono cose all'ordine del giorno, quindi prima faccio il deploy, poi provo prima a inviare non dandogli niente. L'indirizzo che invia è questo, è questo che io qua seleziono. Se io adesso seleziono 03C invia lui, adesso selezioniamo il primo. Se io adesso provo a fare una transazione mettendogli come account ricevente uno facilmente memorizzabile, proviamo AB. Ok. Quindi lo copio. Questo è il tasto per copiare. Vedete che viene copied value to clipboard. Quindi copio. Rimetto il mio contratto iniziale perché non vorrei inviarmi i soldi da sola. Ok, l'ho copiato, non posso sbagliare. Bene. Scusate. Faccio transazione. Vedete qua, mi esce errore e mi esce proprio, guarda, non hai immesso nulla. Vado su, me lo aspettavo. Way è 10 alla meno 18 Ether. Potete inviarvi Way, però effettivamente lo noterete perché fra il costo del gas è una quantità veramente irrisoria. Quindi 5 Ether credo sia abbastanza per vederne i risultati. La spunta è verde, ho fatto la transizione, infatti io sto a 94 e AB, il ricevente che vi avevo detto, sta a 105. Un'altra cosa che vi devo fare, l'ultima cosa che vi devo dire è che public non è solo per le funzioni ma può essere anche per le variabili. Quindi se io qua scrivo public numero, rifaccio la compilazione e faccio il deploy, spunta verde, il mio nuovo contratto avrà un pulsante in cui posso vedere il valore di numero. Quindi se io effettivamente decido che una variabile è public, chiunque può premere il pulsante e controllare quant'è. Quindi se io in uno smart contract voglio far vedere, che ne so, le ore che ho lavorato, mi basta mettere public, la gente può andare lì, schiacciare e controllare le ore che ho lavorato. Questo lo so che è una prima infarinatura veloce, ma vi manderò tutta la sintassi e sono apertissima alle vostre domande, dubbi e perplessità. Non vedo domande a me direttamente. Questo lo chiedo. Tutto tace. Allora facciamo una cosa un pochino più tranquilla per alzata di mano. Per alzata di mano vediamo se avete un'idea di come si programma in generale, quindi se le parole if, for non vi spaventano o se effettivamente dobbiamo dare un attimo per le strutture. Sono strutture comuni a tutti i linguaggi, quindi non sono partite da quelle, però se effettivamente non le sapete è giusto che ci perdiamo un attimino di tempo. Quindi alzate le mani se volete che spieghiamo. Sara, mi chiedono di condividere lo schermo, insomma di dare la possibilità di mostrare ai partecipanti il video di programmazione perché è stato un po' veloce e così diamo la possibilità insomma ai partecipanti di poter replicare quello che hai fatto. Magari puoi rivedere i vari passaggi anche in maniera più lenta. Ok, va bene, allora vedete? Si vede? Ok, allora ma in maniera più lenta. Quindi ripassiamo la struttura base. La parola function, nome della funzione, in questo caso è transazione. Quello che io come utente devo dare alla funzione, come vedete address ricevente è scritto sia qui che dentro il mio contratto, quindi quello che effettivamente chi utilizza il mio contratto dovrà inserire. Le informazioni che io adesso non ho, per esempio a chi voglio inviare Ether. Public, public è per far sì che la funzione dello smart contract sia richiamabile da chiunque, quindi se io non metto public la funzione è interna al contratto ma nessuno può vederla. Return, quello che io voglio che mi ritorni. Return è quello che io voglio ritornare a video, magari in duplica aveva un significato un pochino più grande. Adesso il return true mi serve solo per sapere che la mia transazione è andata a buon fine, che quindi le righe di codice sono state tutte svolte e che sono arrivate alla fine. Require. Require mi dà una condizione che deve essere verificata, in questo caso che io ho effettivamente immesso degli Ether o delle sue sottofrazioni, insomma ho immesso del valore per effettuare la transazione, se no non ha nemmeno senso che parta. Se il require ti dà una condizione, virgola, il messaggio che vuoi che paghi a schermo, non lo so, errore, errore 404, quello che volete scrivere. Ovviamente più chiaro è, più è facile l'utilizzo del vostro contratto da parte di chi lo manderete, di chi lo richiamerà. Il ricevente è chi deve ricevere il pagamento. Transfer è la parola che si usa per trasferire la quantità e il message.value. Ripeto, il message.value è questa casella che vi trovate sulla sinistra sotto il gas limit, di cui potete benissimo scegliere l'unità di misura. Vi consiglio gli Ether solo perché sono meglio visibili dal punto di vista di bilancio. E questa funzione finisce qui. C'è un attimo un messaggio in chat. Nel caso appunto in cui l'importo si è zero e quindi non venga andato nulla, il contratto è stato comunque eseguito. Allora, il contratto sì, il gas viene caricato perché io come richiamo il contratto, anche solo richiamarlo, vuol dire che il gas viene speso. Quindi il gas, indipendentemente se io gli faccio fare un'operazione valida o no, viene speso. Se non fa la transazione, fa un'operazione in meno e spende meno gas. Però comunque un minimo viene tolto comunque. Spero di essere... Questo funziona anche per altre reti come Cardano o Port... Allora, adesso mi trovo impreparata per sapere se Cardano effettivamente abilita i smart contract. Perché i smart contract, per esempio, sulla rete Bitcoin non funzionano. Tutte le reti che si basano su Ethereum, infatti sta avendo sempre maggior riscontro, hanno la possibilità di fare contratti. Adesso non so su cosa si basano Polkadot e Cardano. Dipende se non sono solo per transazioni funziona. Tutto ciò che si basa su Ethereum e tutto ciò che fa, che vede le blockchain in maniera completa, usa smart contract. Tutto ciò che invece si ferma al mero invio di transazioni, no. Devi solo vedere a cosa si appoggia. Quasi tutte le sottoreti si appoggiano a Bitcoin o Ethereum, dal punto di vista strutturale, ecco. Allora, guarda, essendo un ambiente di simulazione virtuale e online... No, in teoria sono competitor, per questo chiedevo. Devi vedere se abilitano altre operazioni. Allora, da errori, la cosa più comune, sei sicuro che il compilatore sia nella stessa versione? Che questi due numeri coincidano? Questo e questo? Ok, grazie mille. Allora, questo in realtà non dovrebbe essere un errore, però Remix ogni tanto lo fa. Lui vuole, se hai usato uno dei contratti base e hai modificato quello, lui vuole che tu gli copy e incolla questa riga di comando. Questa non la do perché non è effettivamente una riga di comando. Come vedi è commentata. Non so perché a volte la richiede, sì, la sto inserendo e inviando. Se mi dai un secondo... Un secondo... Ecco, inviata. Ok. Magari la invio a tutti in realtà così almeno sono sicura che se trovate errore. Questa non la metto come riga di comando perché effettivamente la doppia barra sta per commento. Quindi io dopo la via è un commento posso scrivere quello che voglio. In teoria il compilatore lo dovrebbe completamente ignorare. Cioè, non mi va di insegnarvi cose sbagliate solo perché Remix non si è capito perché la richieda. Ok, questo è a posto. Ah, ok. Per quanto riguarda l'account, non serve niente. Si scrive Remix ID su Google. La prima opzione di solito è quella giusta e si entra. Quindi si possono fare tutti i test che voglio. Non c'è l'account. Apposta perché ogni volta che entro, entro nel mio ambiente virtuale, tutto quello che scrivo mi conviene copiarmelo e salvarmelo da un'altra parte perché dopo un po' viene cancellato. Ok, ora siamo allineati. Come ho detto all'inizio, non vi preoccupate della sintassio, di prendere troppi appunti perché quello ve lo invio io per praticità perché mettermi a spiegarvi ogni singola parola, magari anche parola di cui non userete mai, cosa significa, è veramente lungo, ci vorrebbe veramente tre ore solo per Solidity. Se ci sono altre domande non abbiate paura, minimamente. Adesso, per completezza vi dico un'altra cosa. Io al contratto posso passare anche l'address di chi lo richiama. Cioè, in generale il contratto non sa chi ha l'address che lo richiama, però glielo posso dire, glielo posso dire scrivendo questa variabile, quindi address, proprio il mio address, che è uguale a msg.sender. Se scrivete così, vi darà sicuramente errore perché il message sender lo prende al momento del richiamo della funzione, quindi io non posso metterglielo così, io lo devo mettere all'interno. Se volete posso mettere, posso ritornarlo, no, posso metterlo pubblico in modo che adesso ve lo faccio vedere. Per mettere una variabile pubblica, creare il pulsante lo devo mettere fuori dalla funzione. Per rendere una variabile pubblica e creare il pulsante, deve essere fuori dalla mia funzione, perché deve esserci sempre il pulsante, non può apparire quando appare la mia funzione. Per dargli il valore non lo posso mettere prima, perché prima lui non ha la minima idea di chi stia richiamando il contratto. Adesso facciamo il deploy. Ok, tutto diventato verde. Prendiamo il contratto. Come vedete c'è il mio address, se io clicco mi compare 000, bellissima questa cosa. Perché? Scusate un secondo. Perché lo prende all'inizio comunque. Quindi no, non gliela si può far vedere così, se la può far vedere in un esempio più reale. Essendo fatto per i contratti come linguaggio di programmazione, è difficile scrivere del codice che non abbia effettivamente un senso intrinseco. Quindi si deve fare per forza la funzione get e set. Oppure gliela spiego, gli dico solo che questo esiste e quando avranno bisogno lo useranno. Faccio la funzione set e get. Ok. Grazie a tutti. Allora, cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Allora, sto facendo una funzione a parte per far sì che message sender venga modificato. Ovviamente quando scrivo, non so, qualcosa all'interno dello stato rimane così finché una funzione apposita non lo modifica. Sempre per questione di sicurezza, ho bisogno quindi di fare una funzione apposta che mi dica che il mio address sia message.sender e poi me lo ritorni. Faccio a return mio address. Questa non posso mettere view perché effettivamente modifica una variabile nello stato. Per esempio adesso se mettessi view mi darebbe errore il compilatore. Quindi faccio una funzione a parte, spero non vi confonda se vi lascio transazione qui in alto. Però essendo un linguaggio oggetti, la mia funzione set e la mia funzione transazione funzionano. Vabbè, funzionano indipendentemente. Cioè quando ne richiamo una funziona una, quando ne richiamo un'altra funziona un'altra. Non c'è alcuna correlazione fra le due. Adesso spunta verde, effettivamente faccio un mio address. Devo togliere il public da qui perché sennò mi ritorna tutti i zeri. Scusate, si ricompila perché prima di fare un deploy se si modifica bisogna sempre ricompilare. Ok, vediamo la mia funzione set, effettivamente verde. Vediamo qual è il suo output. E il suo output, attenzione a non fare confusione con tutti gli address che vedete. Questo è l'address del contratto, non è l'address. Devo proprio arrivare al decoded output, è effettivamente 05b38. 05b3. Ok, se io adesso cambio questo contratto, mettiamone uno riconoscibile, AB, e riclicco sulla mia funzione set, quindi andiamo qua sotto a rivedere la nuova spunta verde, e con molta attenzione arrivo all'output, otterrò AB. Come vedete, il contratto, ogni volta che richiamo la funzione, viene modificato e viene modificato con effettivamente l'address di chi richiama il contratto. Se ci sono altre domande, ci sono altre domande? Vi lascio intanto la condivisione attiva così. Colgo l'occasione per ricordare i partecipanti, soprattutto quelli che arrivano dalle scuole, che per poter ricevere l'attestato devono aver frequentato l'intera lezione dall'inizio alla fine. Noi per produrre gli attestati ci baseremo sui nickname che voi avete inserito su Zoom, per cui chiedo di verificare per assicurarvi appunto che i nomi corrispondano, che non siano dei semplici nickname, ma corrispondano di fatto ai reali nomi degli studenti. Quindi attenzione a questo aspetto e basta. Prego Sara. Ok, allora io riparto con una votazione. Spero che la cosa sia... Ah, domanda, solitamente per eseguire un contratto sia un'interfaccia simile a questa, ci puoi fare un esempio di contratto realistico? Simile direi che è a dir poco, perché è praticamente uguale. Questa, l'ambiente virtuale nella JavaScript Virtual Machine. Injected Web 3 ti dà la possibilità di effettivamente mettere un contratto in catena tramite un portafoglio, non so se conosci Metamask o altri portafogli collegati alla rete. Se invece sul proprio computer si ha proprio un nodo della catena effettivo, si usa Web 3 Provider. Web 3 è anche una libreria di Python per lavorare con gli smart contract, quindi è una sigla che ritorna spesso. Basta modificare. Io adesso su questo computer non ho una catena collegata, per esempio il mio collega Christopher ce l'ha. Basta semplicemente, ecco infatti mi dà errore, basta semplicemente cambiare questo parametro e si inserisce il contratto sulla catena. Gli account non saranno più fittissimi, ma viene fuori sia in caso del wallet che del nodo il proprio. Lascio la condivisione a Christopher se vuoi proprio vedere un esempio pratico di contratto messo in catena. Ovviamente una catena testnet non spendiamo veri Ether per una cosa del genere. La catena testnet è esattamente come una catena, solo che gli Ether vengono distribuiti gratuitamente e non devono essere comprati. Tutti gli smart contract, prima di essere messi sulla vera, vengono... Sì, potete testare in testnet, sì. Non solo in virtual. Vai. Quindi, allora... Allora, adesso ci siamo. Qua sopra invece che JavaScript VM io uso Metamask, quindi faccio Injected Web 3. qua metto la mia password di Metamask e quindi mi collego al mio Metamask. Questo è l'account mio dove ho... che utilizzo e qua sono gli Ether di test che ho e sono 26. e quindi se prendo, per esempio, questa... facciamone una semplice, vado a pescare... programmino semplice, no? prendo set get e vado a pescare... e facciamone uno semplice, semplice, function... ma sì, va bene anche questa, dai. Allora, questa cosa fa? Anche era già lì, l'avevo fatto, c'è il costruttore e definisce una variabile count uguale 0. E poi si può o andare a vedere quante count oppure incrementare la variabile count di 1. e allora vado a compilarlo e poi faccio il deploy. Qua mi chiede effettivamente se voglio metterlo, mi fa chiedere quante tassa voglio pagare perché quando si parla di transazioni vere sulla blockchain magari conviene mettere un po' di fee, quindi si chiama in modo tale che i miner preferiscano validare subito la tua transazione. Qua facciamo senza tassa, conferma. Adesso c'è questo 1 qua che mi dice pending transactions, aspettiamo che la transazione effettivamente sia validata, confirmed, confermata. quindi adesso c'è, non è qua è per andare a vedere, ma io qua ho il contratto, counter, posso vedere che è 0 perché io qua l'ho messo a 0. Invece supponiamo che voglio incrementare, chiamo la funzione incrementa, chiamo la funzione incrementa, di nuovo per incrementare, perché effettivamente vado a scrivere, non è solo a vedere, vedere posso farlo senza validare niente, per inserire valori, cambiarli, devo di nuovo dire sì, confermo la transazione, adesso di nuovo pending transaction, diamo di tempo, ecco, transazione confermata, andiamo a vedere, get count è diventato 1, perché effettivamente la funzione incrementa è stata, il suo valore è stato cambiato nella catena. Su una blockchain reale il tempo non è così, cioè non di test, che si chiama, perché le blockchain possono essere testnet o mainnet, rete principale, su una mainnet probabilmente non è così rapido. non è così. Aspetta, gas free in testo. Allora, vediamo. Versioni diverse di Solidity hanno funzioni diverse o si tratta solo di versioning? Dipende, allora, con i vari aggiornamenti può succedere un po' di tutto, dipende magari da una versione all'altra, non cambia nulla, mette solo qualche impostazione di sicurezza in più, qualche controllo in più. Magari una versione molto più nuova toglie proprio delle funzioni vecchie o comunque cambia sintassi e la sintassi vecchia non è più utilizzabile, lì dipende da che tipo di versione c'è. Un esempio di questo sono le funzioni vecchie. Un esempio di questo sono le funzioni... Ok, a posto. Le funzioni vecchie di Solidity, per esempio, trasferivano denaro anche quando... denaro Ether... anche quando l'address era un address non valido. Per esempio, se io scrivo invia 3 Ether a, non so, scrivo Tiziano33, non è che adesso il transfer lo fa. Invece, prima, nelle versioni vecchie di Solidity, se io mi sbagliavo a scrivere l'account, ricevendo un addresso non valido, per esempio lo inviamo. Mi sentite? Ok, gas free, no, forse... Le funzioni vecchie di Solidity... No, quando ho parlato di gas free, mi ho confuso un po', in realtà qua si definisce il gas che si è disposti a spendere. Questo è 10 alla meno 8, che è praticamente nullo. Diciamo che più... Qua, aspetta che ricondivido... Qua, ok, no, perché rispondo a quella domanda del gas free. Qua io decido, no, questo 0 in realtà non era il gas free, cioè il gas, ma il gas io lo inserisco qua. E qua è 1 e alla meno 8, cioè 10 alla meno 8, 0.801, e vuol dire che è molto basso. Incrementando questa quantità, la transazione viene eseguita più velocemente. Questo 0 invece è collegato al visualizzatore, non c'entra col gas. Ok, visto per Sara avete disattivato la condivisione? Sì, direi che abbiamo finito, sì. Ok, allora attivate la webcam così ci avviamo alle conclusioni. Beh, allora... Perché avevamo previsto un altro quiz su sta roba un po' più pratica e poi far proprio fare degli esercizi di programmazione. Siccome resta solo mezz'oretta, magari pensavamo di farvi fare direttamente qualche esercizio. Sono d'accordo, dai. Ok, vedo Mirko che è carico, quindi va benissimo esercizi. Allora, carica il file. Allora, faccio io. Scusate, non ho i permessi per inviare. Ecco, non c'è problema, vediamo i programmi. Intanto se avete altre domande, non vi preoccupate. Allora, vi copio, così facciamo prima, senza stare a inviare. E messaggio diretto fatto di nuovo. Sì, no, ho sbagliato, invio a tutti. Allora, se copiate questo, su un file su Solidity, su Remix. Sì, no, ho sbagliato. Allora, se create un file nuovo su Remix, condivido un attimo lo schermo. Ok, andiamo su Remix, andate qua e create un nuovo file, così, premendo qua, sopra i due file, il primo, qua, crea un nuovo file e lo chiamiamo tipo esercizio.sol. E direi proprio di fare copia e incolla di questo che vi ho mandato lì sul file nuovo. Ho .sol, sì, perché stiamo usando Solidity come linguaggio di programmazione. Se usassi Python dovrei mettere .py, se usassi c, .c sono da mettere tutte estensioni. Ok, quindi se copiate quello, poi vi direi . . . . Facciamo così . . . di fare tipo questi esercizi qua, a partire dal codice base che vi ho copiato . . . . un attimo che vediamo tutto il materiale che serve . . . DOG neетemi . . . Grazie. Grazie. Vi manca qualche comanda o andate qui? Sì, sì, allora... Grazie. 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 Allora, che mi... Sì, ho sbagliato di nuovo. Ho condiviso un link al file con le istruzioni, con il linguaggio di Solidity. Grazie. 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 Sì, sto entrando. Grazie. 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 Se cercate qualcosa e non lo trovate, non necessitate a chiedere o a dirci. Sì, sì, non lo dubbio, chiedete pure. Grazie. 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 Nonno punto esclamativo è il numero fattoriale, quindi per esempio 5 punto esclamativo vuol dire 5 per 4 per 3 per 2 per 1. 7 punto esclamativo è 7 per 6 per 5 per 4 per 3 per 2 per 1 per il punto D. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vedo solo 5 persone sul file. Avete problemi ad aprirlo? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi bisognerà usare l'IF. E se non riesci ti do qualche altro suggerimento. Grazie a tutti. 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 perché volevo dire una cosa carina. per chi fosse per chi fosse interessato volevo aggiungere una cosa avendo messo effettivamente in blockchain il suo contratto di prendi un numero, inseriscilo e ogni volta incrementalo di uno se volete possiamo inviarvi l'addressa del contratto e se avete un account Metamask potete anche voi richiamarlo e aggiungere per esempio uno al numero e rimarrà lì perché adesso chiunque abbia una blockchain quadrants può andare lì sul contratto di Christopher e richiamarne le funzioni non avendo messo nessun require su quelli che possono usare il contratto se una persona a caso va lì non so perché è una testnet quindi si potrebbe fare un tot di gas per vedere fino a quanto questo numero si può incrementare si può benissimo fare se volete l'addressa del contratto ve lo condividiamo però dice allora solo con l'addresso non lo richiami da Python ovviamente però in te lo puoi fare Metamask te lo chiede perché comunque stai usando gas e i smart contract come credo abbiamo detto abbastanza volte possono creare casini perché se sono scritti male quelli continuano ad andare è normale che ti chiede se sei sicuro quello che stai facendo però se il contratto l'hai scritto tu è difficile ecco che non che ti faccia casino se non lo condividi con nessuno e se ce l'hai tu il contratto e se stai lavorando in un ambiente di testa adesso spero di aver risposto se qualcuno è abbastanza coraggioso da far vedere la propria soluzione se no la faccio vedere io non c'è problema se qualcuno se la sente saremmo veramente fieri di voi se no siamo comunque fieri di alcuni di voi vuoi continuare Mirko? perché se no avremo anche altre tipologie di esercizi quindi vedi tu visto che sei il più carico ti chiedo a te se vuoi andare avanti con questi qua e finire C e D oppure se vuoi vedere le altre tipologie ok allora scrivi la funzione base contract function grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te allora fate un altro file come base questo libero solo in contract my contract e magari scrivete proprio voi la funzione e adesso vi metto in chat le task grazie a te 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 Grazie. 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 Per approfondimenti e soluzioni vi lasciamo la nostra e-mail. Per ogni caso siamo sempre ben disposti verso le curiosità. Ok. Anche se magari semplicemente volete provare senza soluzioni, vi stufateci, chiedete la soluzione per confrontare, magari mandateci una mail e poi ve la inviamo. Allora questo è il mio. Allora questo è il mio. Visto che la parte di pratica purtroppo ho dovuto fare veramente tanti tagli per via del, beh, fra i problemi di rete e i problemi vari, il tempo perso. Se trovate qualche problema a fare alcuni esercizi non vi preoccupate, ci sta che ci voglia un po' di tempo, ecco. E ovviamente se tra tutto mi sono scordata di darvi un'istruzione o qualcosa, sentitevi proprio liberi di scrivere e di chiedere, non abbiate paura. Grazie. 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 Ok, mi sa che l'abbiamo fatti stancare troppo. Se non c'è più niente, chiudiamo allora. Mirko, se hai bisogno, noi un altro po' ci stiamo. Grazie. 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 Tutte le domande sono ben accette, siamo qui apposta. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. va bene allora ciao a tutti e per qualsiasi cosa scriveteci buona giornata ciao Mirko ciao a tutti